Il tema di un certo dump che lo ha in Santa Cruz e che voglio chiedere a un'unione pubblica di parte e fraccione di MEP per sobre se non gli abitanti non è preoccupato. Mi provo a dire che il tópico è il maniamento di infrastruttura e di medio ambiente, qual è sicuro un ministro che, se la riunione è in un luogo, lo voglio chiedere a venire al Parlamento. E' un tópico che non è solo un buraco di Santa Cruz, ma è la legge e la legge dell'ordenanza territoriale e che è il planico per il tipo di tópico. La preoccupazione per la riunione della isla è qualcosa di nuovo. Ci sono diversi siti per decadarciare, per quanto il popolo sia il popolo di più di una società, e che voglio usare, secondo le regole e secondo le parole che hanno, per cobre, per un materiale, per ubicare un materiale in un'unione. Non è un tópico nuovo, ma mi voglio dire che, se ci si tratta di un buraco, di un'area, mi voglio dire che voglio justificare per tratta di un buraco, di un'area, di un'area che voglio usare come dump e di un maniamento che il governo ha in un'unione pubblica. E non è disconosibile il terreno di una isla che voglio usare, sia per tratta, sia per plantare, sia per plantare, sia per fronte, sia per il loro corpo, sia per anche per questa propria, che voglio usare, non per emettare quali stanno, ma per esempio, per esempio, il abitante usa per un'altra metà. E ora, abbiamo un departamento che può fare a riunione di una isla, conforme noi lo facciamo. Non ho molta informazione nel momento di una riunione di una cosa, Grazie a tutti.